Se stai seguendo questa playlist come principiante e dovessi trovare questo video un po' troppo dettagliato o difficile, puoi saltarlo senza compromettere il resto della playlist. Ma il mio consiglio è di provarci e in ogni caso ritornare più avanti quando ti sentirai più pronto. Buona visione! Beh, pare che abbiate gradito, quindi beccatevi questa seconda dose. Torniamo a Windows, un altro esempio carino che ho trovato. Un po' da paura, perché quello che fa cos'è? Congela l'intero sistema in pratica per tot millisecondi, ma non con un semplice comando di slip che andrebbe a bloccare soltanto quel processo, ma impegnando tutti i core disponibili con un thread di esecuzione con priorità sparata paletta. Solto include due funzioncine. La prima è quella che imposta priorità di classe real-time per il processo principale. set imposta la classe di priorità per chi? Per quale processo? Quello attuale, getCurrentProcess, è questa la costante che corrisponde a priorità real-time. non solo. Verrà alzata la priorità a critica su ciascuno dei thread creati. Ogni volta che verrà creato un thread, la chiameremo questa real-time thread priority, e come prima, imposta la priorità per il thread, quale? Quello attuale, appena creato, time critical. Questi sono i millisecondi dell'agonia che subirà il sistema. Agonia, cioè completo congelamento del sistema causato da che cosa? Da un loop infinito, sostanzialmente. Ogni thread andrà ad eseguire questa funzione, che indicheremo proprio come parametro quando andremo a creare il tal thread. la quale cosa fa? La carognona, sostanzialmente si autoeleva come thread la priorità, e poi mi ci dà questo while true, completamente CPU bound, usa a paletta la CPU all'infinito, a girare all'infinito a vuoto, ma comunque sono ciclimacchina che se ne vanno. E lo si fa, come dicevo, su ogni core disponibile al suo sistema. Informazione che però dobbiamo prima recuperare, che è quello che si fa qui, sostanzialmente il numero dei cores. Con questa call e system call collegata, chiediamo l'informazione del sistema, che verranno copiate nella structure sysinfo, dalla quale potremo estrarre la variabile corrispondente al numero dei core, ma ogni core è effettivamente un processo. Real-time per questo processo, poi per tutti i core ci spariamo sopra un bel thread. E non stiamo andando molto per il sottile, non è detto che davvero per il nostro processo ci siano liberi a disposizione tutti i core, magari alcuni sono già impegnati a fare una codifica, a scaricare da internet, andiamo su sicuro. Il terzo parametro della funzione create thread è il nome della funzione da eseguire in quel thread. Qui forse avevo esagerato perché mi ero dimenticato che già qui si chiamava la real-time thread priority, quindi questo potete anche commentarlo. Lo ammazzate lo stesso, poverino il sistema. Il congelamento per quei 4 secondi risulterà evidente dal fatto, e qui non riuscirò perché si blocca anche il programma che registra, si blocca tutto, da paura. Qua si prende il tempo, in tick, l'orologio interno del sistema, e si rimane ad aspettare quei famosi 4.000 millisecondi. Io adesso mando in esecuzione, anche se non si vedrà nulla. Bene o dai, è evidente. Casualmente il software di registrazione è riuscito a intercettare l'inizio del blocco, e questi commenti che state ascoltando li ho naturalmente aggiunti in post-produzione, perché altrimenti la mia voce non sarebbe stata registrata. Fatto, ecco qua, 4 secondi. Però forse un modo per evidenziare quel picco di utilizzo, se più ce l'ho. Ho richiamato il task manager, sono andato in prestazioni, provo a rilanciare, qui dovremmo vedere a un certo punto un'impennata improvvisa corrispondente all'esecuzione. Ci riprovo, vado ora. Fatto, eccolo qua. Corrisponde, come vedete pochi secondi fa, congelamento completo. Infine vediamo con Linux una invocazione tramite Assemble Inline. Sapete che non ho trovato, o meglio, ho trovato quella qualche esempio anche per Windows, ma bene o male tutti o mi davano un errore o impalavano la macchina, proprio perché probabilmente Microsoft è più libertina nel fare quei cambiamenti interni, per cui andare a chiamare o al vecchio modo o al nuovo modo, ma sbagliando un parametro o l'interrupt, porta quasi sempre a dei disastri. Mentre è probabile, qua, come dicevo, pago anche un prezzo di ignoranza con Linux, che sia comunque più stabile l'interfaccia per Linux, per cui anche bypassando libreria al libc e andando direttamente a fare l'assistant call, ce la si fa. Eccoci, probabilmente siamo anche aiutati dal fatto che ci siamo lanciati verso una banale stampa, il classico horror. Nel main si prepara il buffer che contiene la stringa da stampare e poi si invoca una nostra, questa funzione, myWrite, invece della classica printf. Attenzione che non stiamo facendo i furbi semplicemente chiamando da assembly ancora la printf, infatti vedete che non c'è nessun include che la invochi, stiamo proprio lavorando a livello di system call. La funzione myWrite ha come tipo restituito un ssize t, dove quella s in più rispetto al size t, a cui forse molti di voi sono abituati, sta a significare signed, cioè con segno, vuol dire che può restituire anche valori negativi per indicare errori. Se tutto sarà andato per il verso giusto, dovremmo vederci restituiti come numero di byte quelli pari alla dimensione del buffer, cioè della stringa che la myWrite riceve come parametri. Insomma, stiamo dando all'assistant call l'indirizzo d'inizio del primo byte da stampare, quel const void pointer buff, e quanto è lungo il buffer, size t, size. Il primo parametro, intfd, è il file descriptor. Come molti di voi sapranno, lo standard input e lo standard output sono trattati come se fossero dei file, comunque delle sequenze di byte. Se andate a vedere nel main, invocheremo la myWrite con valore 1, perché 1 è il descrittore che individua lo standard output. La cosa che ci interessa è tutta concentrata qui, la sintassi non è banale, poi tra parentesi ho letto che quella del GCC per il codice in line assembly è più complessa rispetto ad altre. Sinceramente non sono in grado di fare confronti, però mi sembrano dei post abbastanza autorevoli. Ecco qua, Quindi il codice assembly è codificato dentro questa ASM volatile. Beh, è evidente che stiamo facendo una system call, con quella syscall, poi viene definito sulla seconda riga il valore restituito, che dovrà finire nella variabile RET. Sulla terza riga la system call da richiamare, la write, il parametro file descriptor, il buffer e la dimensione. Sull'ultima riga, la quarta, troviamo la lista dei registri coinvolti nell'operazione. CC e chiarisco subito che non sono un programmatore assembly, altrimenti mi chiedete subito la playlist. Non sono in grado al momento. Ho semplicemente consultato a questo indirizzo. È il registro dei flag. RCX e R11 sono due dei registri a 64 bit a disposizione. E memory sta a significare che l'istruzione richiamata andrà a comandare degli accessi in lettura e scrittura nella RAM. In effetti stiamo passando un puntatore al buffer che dovrà essere letto dalla RAM e contenente i byte da mandare in stampa. Ok, io avrei anche terminato. Come vi ho detto, sono stati soltanto degli abboccamenti. Ma è stato bello, come ogni tanto dico, sporcarsi un pochetto le mani perché si diventa comunque più consapevoli di aspetti che altrimenti rischierebbero di rimanere a un livello troppo teorico. A risentirci. Grazie.